Siamo un appuntamento importante, noi siamo contenti di ospitare a Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare sempre più Roma come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani, delle start-up. Ci sono realtà straordinarie che noi sosteniamo e incoraggiamo anche per aiutarci a trovare le soluzioni alla sfida di rendere Roma una città più semplice, più moderna, più vicina ai cittadini. Abbiamo inaugurato la Casa delle Tecnologie Emergenti che è un grande luogo aperto all'innovazione, alle start-up e ne stiamo realizzando altre in altri luoghi della città proprio per chiamare a raccolta le migliori energie, le migliori intelligenze per aiutarci a migliorare la gestione dei trasporti, a realizzare imprese innovative capaci di creare buona occupazione, a migliorare le nostre politiche di welfare, di inclusione. Insomma c'è tantissimo da fare e i giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma.